E' un momento importante e storico per entrambi. Vespucci è la nave scuola più famosa, più bella al mondo. Una rossa è un po' considerata la nazionale della vella italiana. L'equipaggio di nave Amerigo Vespucci e tutta la marina militare augura buon vento e mari calmi all'equipaggio di Luna Rossa per la sua impresa storica che si troverà ad affrontare l'anotorso. Ogni volta che salgo su questa nave provo una certa emozione perché si apre una serie di ricordi. Grazie a tutti.